La corruzione in Italia ha un costo sociale enorme, calcolato in almeno 50 miliardi all'anno. Un reato che porta con sé altre fattispecie, concussione, abuso d'ufficio, falso, truffa. Corruzione vuol dire pubblica amministrazione, un fenomeno diffuso dal più piccolo comune, provincia, regione, ufficio pubblico fino ai più alti apparati dello Stato. L'argomento è stato oggetto di un convegno a Taranto organizzato con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati a cui hanno partecipato tra gli altri il procuratore della Repubblica del capoluogo ionico Franco Sebastio ed il procuratore generale della Corte di Appello di Lecce Giuseppe Vignola. Al centro della discussione molto tecnica l'efficacia della legge 190 del 2012, quella che avrebbe dovuto scoraggiare corruttori e corrotti reprimendo più duramente il reato. Risultati scarsi a giudicare dalle sempre più numerose inchieste che hanno interessato il Paese in questi ultimi tre anni. La razio della nuova disciplina si identifica con la volontà di adottare strumenti di prevenzione e repressione in continuità con le convenzioni internazionali, in particolare quelle europee, compreso il prolungamento del termine di prescrizione. I risultati forse arriveranno in un futuro più remoto.